ciao a tutti la vitamina b12 è essenziale per il nostro corpo aiuta a creare dna e globuli rossi purtroppo non rimane a lungo nel nostro organismo né il corpo la produce naturalmente questo può causare una carenza di vitamina b12 ma come fare a sapere di averla il nostro corpo mostrerà molti segni tra cui la pelle pallida stanchezza e la glossite parleremo di tutto questo e di più numero 1 visione offuscata se non viene trattata la carenza di b12 può influire sui nervi ottici a causa di questo danno avrai la vista disturbata o offuscata la prossima volta che ti sembrerà di non vedere bene non correre a prendere nuovi occhiali fai controllare il livello della b12 la cosa positiva di questo sintomo è che è reversibile naturalmente dovresti colmare la lacuna assumendo integratori di vitamina b12 un'altra opzione sarebbe quella di mangiare cibo ricco di questo nutriente tra gli altri vongole sardine e uova numero 2 sbalzi d'umore gli sbalzi d'umore si verificano per molte ragioni gli studi suggeriscono di aggiungere alla lista la carenza di vitamina b12 ancora una volta un aumento dei livelli di vitamina b12 nel nostro corpo può aiutare a riportare le cose alla normalità questo a meno che non si abbia un grave caso di depressione in tal caso sarebbe meglio rivolgersi a uno psichiatra o a un consulente numero 3 alta temperatura un sintomo molto raro ma occasionale della carenza di b12 è la temperatura elevata non è chiaro perché questo si verifichi ma alcuni medici hanno riportato casi di febbre che si è normalizzata dopo il trattamento di bassi livelli di vitamina b12 tuttavia è importante ricordare che le alte temperature sono più comunemente causate da malattie non da una carenza di b12 numero 4 fatica immagina di non avere uno dei componenti più necessari per produrre globuli rossi ora potresti chiederti in che modo i globuli rossi sono collegati a questo beh la risposta è molto semplice i globuli rossi trasportano l'ossigeno in tutto il corpo quando non ci sono abbastanza globuli rossi non c'è abbastanza ossigeno di conseguenza sentirei di essere affaticato o affaticata numero 5 pelle pallida avere la pelle pallida è spesso un sintomo associato al littero ma può essere anche colpa della carenza di vitamina b12 come abbiamo detto prima la mancanza di vitamina b12 significa meno apporto di globuli rossi nel corpo questo rallenta il processo di costruzione delle cellule e impedisce loro di dividersi senza un numero sufficiente di globuli rossi nel nostro corpo non c'è abbastanza circolazione di ossigeno questo è il motivo per cui sia la pelle pallida numero 6 sentirsi in affanno è possibile sentirsi senza fiato a causa della carenza di vitamina b12 questo si verifica soprattutto nelle persone anemiche fortunatamente non è così comune ci sono molte cause per il respiro affannoso non è possibile individuarne solo una ti suggeriamo di andare da un medico ogni volta che ti trovi ad affrontare questo problema nel caso si tratti di carenza di vitamina b12 sarà reversibile dovrai assumere integratori di vitamina b12 e fare qualche esercizio di respirazione numero 7 glossite la glossite è una patologia in cui si avverte una sensazione di bruciore in bocca a parte questo la lingua diventerà liscia e le papille gustative scompariranno la lingua diventerà rossa gonfia e dolorante alcuni studi hanno concluso che la glossite può essere spesso collegata alla carenza di vitamina b12 alcune persone hanno affrontato problemi simili come lingua infiammata o forme di afta numero 8 sensazione di formicolio quando l'uomo ragno sente un formicolio l'istinto del ragno gli dice che il pericolo è vicino i nostri sensi umani ci permettono di fare la stessa cosa beh più o meno in questo caso la carenza di vitamina b12 è uno di questi pericoli che percepiamo attraverso una strana sensazione di formicolio la vitamina b12 gioca un ruolo importante nel sistema nervoso la sua mancanza può causare diversi problemi di natura nervosa uno di questi è una sensazione di formicolio seguita da mani e piedi che tremano anche se sei vegano o vegana dovresti aggiungere almeno una fonte di b12 al tuo corpo come abbiamo detto prima anche il latte a base di mandorle è una buona alternativa numero 9 irritazione abbiamo già spiegato come la carenza di vitamina b12 influisca sull'umore di una persona beh anche l'irritabilità è qualcosa che si accompagna a questo problema la vitamina b12 aiuta a scomporre una sostanza chimica nota come omocisteina si trova nel cervello e quando non c'è abbastanza vitamina b12 il cervello ne ha troppa potrebbe portare a problemi di salute mentale tieni presente che questa è solo un'ipotesi sono necessarie ulteriori prove numero 10 problemi allo stomaco la carenza di vitamina b12 nel nostro organismo non è una buona notizia per l'intestino questo perché quando c'è una carenza di globuli rossi nel nostro corpo lo stomaco non riceve abbastanza ossigeno senza ossigeno molte funzioni biochimiche non vengono eseguite correttamente una di queste funzioni è la digestione se non viene curata potrebbe portare alla diarrea durante questo periodo si potrebbe avere anche nausea numero 11 perdita di peso la perdita di peso che sia a causa della carenza di vitamina b12 non è qualcosa di cui essere felici la mancanza di globuli rossi e problemi di stomaco portano a una perdita di appetito questo provoca un drammatico restringimento del girovita se la situazione diventa troppo fuori controllo visitare un medico sarebbe una scelta migliore numero 12 aumento della frequenza cardiaca l'aumento della frequenza cardiaca è una delle prime cose che accadono quando si ha carenza di vitamina b12 il cuore lo fa per compensare la mancanza di globuli rossi nel corpo dopo tutto il cuore deve assicurarsi che ogni parte del corpo riceva abbastanza ossigeno soprattutto gli organi vitali come il cervello e il fegato hanno bisogno di un regolare apporto di ossigeno per questo motivo il cuore si assicura di battere più velocemente per fornire ossigeno a questi organi numero 13 facili e chimosi uno degli altri sintomi comuni della carenza di vitamina b12 è la facile formazione di libidi il nostro corpo non sarà in grado di reggere a lungo senza globuli rossi se si ha una carenza di calcio o di vitamina c ci si può anche procurare facilmente un livido un esame del sangue è un modo semplice per scoprire se hai o meno questa carenza stai assumendo la giusta quantità di b12 soffri di uno di questi sintomi faccelo sapere nei commenti qui sotto ci farebbe piacere saperlo